segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te fini o con i due segretari dei sindacati che hanno che hanno organizzato lo sciopero questa è una battaglia dei lavoratori quindi lui non se l'è presa con loro quanto con noi sono un operatore scambi e cabine del di una delle linee roma della roma cento celle io sono precettata nel senso che sarei andata comunque a lavorare per mantenere la fascia di garanzia e dare la possibilità quindi ai cittadini agli utenti di tornare a casa dal lavoro e poi avrete lì dallo sciopero alle 8 e 30 di sera quando ci operiamo non lo facciamo mai contenti nessuno vuole togliere il servizio al cittadino più ci precetta noi ci operiamo ancora più forte quindi mandiamo un bacio al signor salvini ci ha fatto veramente rabbia rinunciare a quattro ore di stipendio non è una cosa di poco conto che ha votato lega e della cgl no ma ne conosco molti che hanno votato fratelli d'italia sono sicuramente arrabbiati come l'avete vissuta questa precettazione se scioperatevi precetto male malissimo perché i lavoratori hanno diritto di scioperare si tratta di ore quattro ore cinque ore perché sappiamo bene che in altri paesi comunque la gente sciopera parte un giorno e non si ferma più salvini guarda questa piazza e tutte le altre piazze sono strapiene come non si vedeva da anni e tutti quelli che oggi ha scioperato non li ha precettati nessuno questa piazza è anche una risposta salvini guardi io non personalizzo quando uno si fa del male non c'è bisogno se si fa se lo sta facendo da solo bisogna avere rispetto dei lavoratori e delle lavoratrici non è mai successo nella storia della repubblica che chi fa sciopero venga insultato da quando un governo di fronte a uno sciopero generale ha precettato i lavoratori impedendo da una parte di loro di poter decidere di si operare da quando queste cose si facevano prima della costituzione a chi la voleva bloccare fate vedere questa piazza che risposta è questa piazza una risposta di democrazia chi fa il bullo istituzionale se il governo è capace di ascoltare allora cambi idea smette di fare cavolate ritira la presentazione e finalmente apre le trattative anche con noi che stiamo avanzando proposte per migliorare questo paese